Questo? Niente, una spinta normale che in aree non viene tutelata a mio favore. Rekke! Ho Simen! Su Astiz, perfetto di insigne. Abbiamo fatto un gol fotocopia di un altro, però è venuto bene lo stesso. Aspetta, Simen, si gira, eccolo, perfetto, il bacio è un bomba da un metro. Il Rekke di Ho Simen, che dopo i soliti 5 minuti porta in vantaggio il Napoli. Guardate, insigne. 5 minuti, sono passati. All'ottavo stavolta.